Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Corriere Fiorentino, Riberi Quamedo e Recuperi per Iachini Alla ripresa il tecnico potrà contare anche su di loro che si allenano alla ricerca della forma migliore dopo il lungo stop per infortunio Corriere dello Sport, Chiesa 2021 l'anno per arrivare al top Il giocatore è corteggiato da Juventus e Inter ma potrebbe decidere di cercare la consacrazione all'europeo con la maglia Viola Prima però testa il campionato, per il futuro ci sarà tempo Fiorentina è interessata ad Ivan Juric Il tecnico del Verone è nella lista dei gigliati qualora non dovesse essere rinnovata la fiducia a Iachini Per Fiorentina1.com Beatrice Cancedda La voce del tifoso Viola